Capacità, umiltà e rispetto sono le caratteristiche che dovrebbero avere gli amministratori locali. È il pensiero dell'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi che invita il primo cittadino serie e la sua giunta ad accogliere al meglio la grande occasione offerta dallo sblocco del patto di stabilità. È un'opportunità, detto Aguzzi, che ha portato un'importante boccata d'ossigeno alla città e a chi la governa. Capacità di poter effettivamente portare avanti le opere che si dovranno fare e sulle quali si stiamo incanalando. Umiltà nel riconoscere e nel sapere che sono comunque fondi che si possono oggi spendere grazie a chi ha avuto la capacità di accantonarli e di rispettare sempre il patto di stabilità. Il rispetto verso chi ha lavorato per questi obiettivi. E in primis devono essere rispettati i cittadini fanesi, secondo il consigliere comunale della Tua Fano, che per otto anni hanno solo pagato tasse e tributi senza avere in cambio quanto meritavano in tema di servizi e decoro della città, proprio perché il patto di stabilità impediva di fare investimenti e manutenzioni. Il rispetto prosegue e va portato anche verso la macchina comunale e quindi verso i dipendenti e coloro che hanno consentito di mantenere negli anni il ruolo di comune virtuoso, perché altrimenti Fano oggi non avrebbe potuto spendere quei soldi. Il rispetto anche ovviamente per chi questa città l'ha amministrata in quei momenti difficili. Vedete, il primo anno della giunta seri è stato un anno disastroso, ma perché in quell'anno ha vissuto le stesse difficoltà che noi vivevamo negli ultimi 4 e 5. Oggi c'è questa iniezione di fiducia, di possibilità, spendendo quei soldi. Questa è un'amministrazione che se non avesse potuto spendere quei soldi sarebbe sicuramente implosa al suo interno, perché nel frattempo ha accumulato, sotto tanti altri punti di vista, solo dei grandi ritardi. E questi ritardi, sottolinea, riguardano la fusione delle due aset, l'area dell'ex zuccherificio, le opere accessori della terza corsia e la rivisitazione del piano regolatore generale. Aguzzi poi ha voluto dire la sua anche sul caso Grizzly. È una vergogna, detto, è una prepotenza dell'assessore alla legalità, Samuele Mascarin, che tiene sotto scacco il sindaco seri. Ci sono tante associazioni che chiedono una sede, per questo partecipano i bandi di gara. Invece a quei ragazzi è stata concessa, a prescindere, senza quindi partecipare ad una gara. In più è stata data a delle persone che l'avevano occupata abusivamente. E come terza assurdità c'è il fatto che gli è stata concessa temporaneamente in attesa di trovare un'altra sede più idonea. Questo significa che gliene verrà segnata una, ancora una volta, senza dover seguire tutti i procedimenti previsti dalla legge, rispettati invece da tutte le altre associazioni. Voglio pensare che l'anno 2016 sia un anno positivo, dove anche l'amministrazione comunale riesca a mettere in campo cose positive. E se questo lo farà, da parte mia, come consigliere comunale della Tua Fano, troverà giustamente una forza politica che gli darà una mano, perché la lista civica non fa distinzioni destra o sinistra. La lista civica lavora per il bene della città. Lo ha fatto in tempi difficili, lo vuole continuare a fare in tempi che non dicono siano difficili, ma grazie proprio a questo blocco del patto di stabilità potrebbero essere comunque migliori.